31 di luglio, giovedì, le notizie di oggi. Dopo un precedente episodio verificatosi alcuni giorni fa all'interno di un negozio di prodotti biologici presso il quale un cliente si era recato e aveva pagato per l'acquisto di alcuni prodotti con una banconota da 100 euro, risultate essere false. Nel pomeriggio di martedì si è verificato un episodio simile. Gli agenti del commissariato di Senigallia sono intervenuti presso un negozio di articoli vari situato in prossimità del lungomare Alighieri, in quanto la titolare sospettava di aver ricevuto in pagamento una banconota falsa. Sono in corso le indagini. Il comune di Senigallia e la fondazione Caritas hanno ultimato la liquidazione dei contributi a favore delle famiglie risultate in condizioni di maggior bisogno colpite dall'alluvione dello scorso 3 maggio per il ripristino delle condizioni di fruibilità delle abitazioni e o il reperimento degli alloggi alternativi. La considerazione del sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi. Noi abbiamo cercato di reperire più risorse possibili da distribuire insieme alla Caritas diocesana dentro un conto corrente che è quello delle SS alluvioni. Abbiamo strutturato un bando e sono state distribuite tutte le risorse che erano contemplate all'interno di quel contenitore. Le risorse arrivano dalle casse del comune di Senigallia attraverso contribuzioni sulle quali abbiamo lavorato e ovviamente non sono adeguate ma sono segnali importanti che volevamo dare e l'abbiamo fatto con una celerità forse unica nella nostra nazione. Continueremo però a lavorare su questo fronte, sul fronte del risarcimento dei danni che devono arrivare dallo Stato, dal governo. I tempi sono più lunghi ma noi intanto con le risorse che arrivano dai privati abbiamo sistemato il palazzetto dello sport, sistemeremo la piscina, interverremo nelle strutture pubbliche come la scuola di Borgobicchia e la scuola Leopardi e continueremo a trovare risorse da restituire a tante famiglie e alle aziende che si sono alluvionate. L'associazione Abuls Marche ha consegnato sei assegni donati a due famiglie di Borgobicchia, due di Borgomolino e due del portone duramente colpite dall'alluvione dello scorso 3 maggio, consegnata anche una targa ad un giovane scout che nonostante una disabilità motoria ha dato il suo aiuto durante quei terribili giorni. Un'iniziativa partita dall'associazione Abuls Marche che si è attivata per raccogliere fondi dalle 43 associazioni sparse per tutta la regione. E ora parliamo di riforestazione. È stato firmato in comune a Senigallia dal sindaco Mangialardi e dall'assessore regionale al suolo e alla costa Paola Giorgi il progetto di riforestazione della città. La prima convenzione per quanto concerne il grande progetto di riforestazione che Regione Marche con Autostrade per l'Italia e i comuni che hanno dato la propria disponibilità mette in campo quale opera compensativa per la ricostruzione della terza corsia dell'A14. È un'iniziativa che per la prima volta viene messa in campo, la Regione Marche è prima, Autostrade per l'Italia investe 11 milioni di euro su delle attività di riforestazione che intervengono su 420 ettari in tutto il territorio regionale. Su Senigallia incidono due progetti specifici, uno alle saline e uno alla cesanella. È la prima convenzione che parte. È molto importante. Perché? Perché chiaramente quando parliamo di infrastrutture sembra sempre un tema scollegato dal tema ambientale invece questo aver posto in essere attività di riforestazione per andare ad abbassare l'impatto di CO2 prodotta con questo tipo di attività ha un ruolo ambientale, un'importanza ambientale importante. Le piante che vengono immesse nei territori sono tutte piante autoctone, anche questo è un fatto molto importante. Chiaramente c'è anche un impatto positivo di questo intervento sulla difesa del suolo, sull'assetto quindi del nostro suolo che sappiamo così fragile. E poi ci sono delle ripercussioni positive anche dal punto di vista economico perché chiaramente si genera lavoro, i comuni poi metteranno in campo delle azioni perché saranno loro che poi porteranno avanti i progetti che Autostrade per l'Italia ha predisposto per ogni singolo comune, per ogni singola area che viene messa a disposizione creando quindi attività lavorativi. Quindi un'iniziativa molto importante della quale la regione va chiaramente fiera che condividiamo con Autostrade per l'Italia e con tutti i comuni che hanno messo a disposizione le aree. Ricordo che sono 60 progetti che incidono sulla nostra regione. Appuntamento d'eccezione, quello di giovedì 7 agosto alle 21.15 alla Rotonda Mare. Stefano Benni, uno dei più importanti scrittori italiani, presenterà il suo ultimo libro, Pantera, che sta riscuotendo un grande successo tra i lettori italiani. Protagoniste dei due racconti che compongono il libro dello scrittore bolognese sono due affascinanti figure femminili, Pantera e Aixi. È tutto anche per oggi, grazie per averci seguito. L'appuntamento, come sapete, è per domani. Grazie.